Sale a quattro il distacco di Fertecolimpica Cerignola in Serie C dopo il largo successo in casa di Bauer Altamura. Fra le inseguitrici perde anche Bisano un viaggi Vieste in casa di Invicta Brindisi, mentre riprendono quota Wemmy Manfredonia e Diamond Foggia, vittoriosa in casa su Tre Gillecce e Angiulli, oltre ad Adria Bari, Corsara, Fasano contro Tecnacque. Nelle cinque vittorie casalinghe del decimo turno spiccano anche le affermazioni di Valentino Castellaneda su Murgia Santeramo, con rotolo autore di 31 punti e di Tecno Switch Ruvo su nuova cestistica barletta nelle immagini. In Serie D Ceglie prevale a San Pietro e va a più 4 su Mensana Mesagni e sconfitta in casa da Poseidone Brindisi dopo un tempo supplementare. Al secondo posto c'è l'aggancio di Action Now Monopoli che vince largo su Fescorato anche grazie ai 29 punti di Calabretto. A ruota Aspi Santarita che centra il quarto successo di fila regolando sul proprio campo International Brindisi. A quota 10 salgono Palacanestro Lecce e Mezzopieno Molfetta che capitalizzano il fattore campo contro Olimpia Rutigliano e Magic Galatina. In video scorrono le immagini proprio dell'incontro del Palapoli. A completare il quadro della decima giornata l'affermazione interna dell'altra monopolitana Masseria Santa Teresa contro Basket Calimera priva del prolifico Balev. In promozione affollatissima la vetta del girone A dopo il primo KO di Daunia Torremaggiore contro Sporting Club Bitonto. Nel girone B sempre a punteggio pieno Club Giganti Cisternino e Monte d'Oro San Giorgio Ionico.